E' grande giorno del ritorno ai voli nel pomeriggio alle 18.25, primo decollo del Foggia Milano-Malpensa, prenotati sul Boeing 737-300 da 139 posti, circa 70 passeggeri secondo quanto riferito dalla compagnia dei giorni scorsi. Costo dei biglietti oscillanti dai 49 euro e 180 la quota di prezzo più alta sul volo del ritorno da Milano, previsto per domenica 2 ottobre. Oggi, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, una giornata storica. Mettiamo a segno più traguardi che testimoniano la crescita della società e che hanno ragione del duro lavoro fatto in questi anni. Oggi l'intera rete aeroportuale pugliese e la comunità di aeroporti di Puglia può essere orgogliosa dei risultati raggiunti, gli stessi successi che desidero condividere con tutti i management e i dipendenti. Abbiamo fatto un grande lavoro ed è giusto che iniziamo anche a raccoglierne i frutti, nonostante la pandemia. Oggi a Foggia, dopo 11 anni, sarà una giornata di festa nella quale coinvolgeremo l'intera comunità del territorio. Intanto fervono i preparativi. L'aeroporto sarà collegato dai bus dell'Ataf. Quattro frequenze settimanali per il Foggia Milano-Malpensa, due frequenze per il Foggia Torino-Caselle, da venerdì 2 dicembre alle 12.40, arrivo alle 14.25. Questo per quanto riguarda i collegamenti già pianificati. Grazie.